buonasera ben ritrovati seconda parte di angoli con noi ivana franceschini responsabile della comunicazione dell'associazione artificio como buonasera buonasera senti vana io ho scoperto l'associazione diciamo quasi per caso allora per chi come me non sia proprio così aggiornato e sul pezzo raccontiamo un po meglio di che cosa si tratta di che cosa vi occupate artificio è un centro culturale che nato nel centro della città grazie a una partnership con diversi enti del territorio e con il comune di como grazie a questo lavoro che ormai attivo sul territorio da tre anni sostenuto dall'associazione illuminanda la cooperativa sociale lavoro e solidarietà nero l'idio music farm e come next abbiamo attivato questo progetto e il comune ne fa parte perché ci ha dato uno spazio molto belle suggestivo che è il chiostrino di sante eufemia che si trova proprio nel centro storico e da lì partono tutte le nostre attività artistiche culturali che offriamo la città ed è lì proprio insomma la location dei vostri corsi poi scendiamo maggiormente nel dettaglio ma proprio lì ritrovo insomma ritrovo è lì sono tre piani che chiamiamo di creatività e di incontro ok chi siete noi siamo l'associazione illuminanda di cui io faccio parte che un po il cuore pulsante che sta portando avanti il progetto e siamo quattro ragazze io anna buttarelli chiara gismondi che è la presidente dell'associazione veronica vestetti poi ci sono ovviamente le persone che con noi collaborano sulle diverse attività anche perché è un progetto molto articolato e che si sviluppa in rete quindi abbiamo già collaborato con oltre 50 realtà del territorio ogni volta su cose diverse quindi siamo in tanti infatti tra pochissimo scenderemo nel dettaglio dico tra pochissimo perché voi avete realizzato un video devo dire molto bello anche da vedere che vorrei riproporre anche i telespettatori quindi ce lo vediamo assieme anche perché proprio lo stesso stile del video rende già l'idea di che cosa si può fare attraverso l'associazione allora vediamolo assieme Artificio è un centro culturale urbano diffuso nella città di Como lo abbiamo creato perché quel ramo del lago di Como non basta più c'è bisogno di una ramificazione più ampia per diffondere su tutto il territorio la freschezza di un'offerta culturale di cui i cittadini possano essere protagonisti per farlo dobbiamo ritagliarci un nuovo ruolo e da operatori culturali di Como diventare cooperatori culturali insieme possiamo fare molte possiamo fare addirittura il contrario di quello che si dice si dice che mancano le risorse e noi condivideremo e scambieremo quelle che ci sono si dice che ognuno deve pensare alle sue iniziative e noi faremo un calendario per promuovere le iniziative di tutti si dice che non ci sono soldi e noi impareremo a fare fundraising con progetti di rete si dice che con la cultura non si mangia e noi faremo imprese culturali solide e redditizie ma non solo porteremo nuovi palchi in città scoveremo il talento ovunque si nasconda se pensi di averne potremo darti ospitalità se pensi di non averne potresti dare ospitalità a quelli che porteremo in città faremo musica e incontreremo musicisti proietteremo film sui muri della città ci incontreremo in un laboratorio cittadino dedicato alla creazione e all'invenzione avremo rispetto per il passato cura per il presente ed entusiasmo per il futuro perché il nostro tempo è proprio questo qua tra tutto il bello che c'è stato e tutto il bello che verrà cercate la capovolta noi siamo partiti venite anche voi beh complimenti davvero carinissimo insomma rende già anche un po l'idea appunto dello spirito un po anche dalle tue parole si è capito siete ragazze giovani insomma molto fresco anche l'ambiente allora parliamo un po anche dei progetti perché insomma ne avete messi insieme in questi tre anni davvero parecchi quindi la vostra offerta è molto articolata noi stiamo dando un'occhiata anche al sito dove è possibile peraltro restare sempre aggiornati su tutte le iniziative quali sono quelle in corso allora adesso sono in corso e si svolgono proprio lì negli spazi del chiostrino diversi corsi a cui la cittadinanza può partecipare e questi corsi sono realizzati collaborando con diverse associazioni abbiamo i corsi di yoga in collaborazione con l'associazione shoam i corsi di circo per bambini per esempio con i ragazzi dell'associazione all'incirco abbiamo laboratori di teatro laboratori di sartoria maglia illustrazione per bambini quindi nei weekend ospitiamo degli illustratori per fare dei laboratori creativi proprio con i bambini quindi questo è un po tutte le attività che giornalmente vengono fatte all'interno degli spazi e poi organizziamo anche delle rassegne il prossimo 5 febbraio si conclude la rassegna di teatro of artificio che è una rassegna particolare perché a scegliere gli spettacoli sono stati dei cittadini comaschi quelli che abbiamo nominato visionari cioè visionano dei video di spettacoli teatrali che ci sono arrivati da tutte le compagnie d'italia e scelgono quelli da proporre alla città ma dai sì che cosa hanno scelto per questa rassegna che si conclude il prossimo 5 febbraio hanno scelto degli spettacoli molto diversi molto contemporanei che trattano tematiche che ci guardano da vicino quindi abbiamo fatto al teatro san teodoro generazione disagio quindi era questo spettacolo che parlava della generazione dei venti trentenni che non sanno bene dove collocarsi insomma come iniziare la propria carriera lavorativa spettacoli anche innovativi sotto l'aspetto dei linguaggi all'arci xanadu abbiamo fatto abbiamo portato questo spettacolo che si chiamava and play realizzato con l'uso di una telecamera cioè il performer si interagiva con la telecamera e poi si vedeva sul grande schermo del cinema gloria il risultato e il racconto di questa storia fatta un po con questo linguaggio innovativo quindi tutte cose abbastanza particolari e adesso i visionari stanno lavorando per la prossima stagione che ci sarà da settembre 2016 in poi quindi chi vuol partecipare in realtà e vuole iniziare a far parte di questi visionari può farlo ecco deve farlo subito nel senso contattarci subito perché abbiamo già divisi gruppi di cittadini e dalla prossima settimana inizieranno a vedere questi video per scegliere i migliori secondo loro mi sembra giusto perché molto spesso insomma anche quando si va a teatro a volte si fa un abbonamento ma non si è proprio soddisfatti al 100 per cento di tutti gli spettacoli in programma questo è un modo per costruirsi da solo viene a sceglierlo e collaboriamo per questa rassegna con luoghi che già fanno cultura con il teatro sociale che ha scommesso anche lui insomma su questa modalità di programmazione quindi uno spettacolo è stato ospitato anche da loro il teatro San Teodoro, l'Arci e il teatro Nuovo di Rebbio quindi una collaborazione anche sul territorio abbiamo sentito anche nel video che realizzate dei progetti anche col metodo del fundraising allora quali sono insomma da questo punto di vista le cose che sono andate in porto? allora noi facciamo, facciamo questo servizio, cioè mettiamo a disposizione una professionista che si occupa della scrittura di bandi non bandi per una singola associazione ma siccome crediamo nel lavoro di rete e nella collaborazione in ogni progetto, in ogni bando a cui partecipiamo cerchiamo di mettere insieme diverse realtà del territorio abbiamo scritto un bando e fortunatamente l'abbiamo vinto con un capofilo al Comune di Como e la collaborazione di diverse realtà del territorio che si occupano di teatro ma non solo per animare i musei cittadini quindi portare nuova linfa, nuova creatività, nuove attività all'interno degli spazi museali cittadini il progetto è iniziato con il nome di Fuori dal Comò e proprio in questi primi mesi dell'anno si inizierà insomma la lavorazione e l'attuazione di questi progetti quindi ne sentirete parlare peraltro vi occupate anche di realizzare e offrire degli spazi espositivi a delle mostre infatti è proprio questa la strada attraverso cui come un filo d'Ariana ho raggiunto la vostra associazione perché ne parte proprio una in questi giorni sì adesso è esposto il lavoro di Angela Caremi ogni mese ospitiamo un artista, un illustratore degli spazi perché il Chiostino di Santa Eufemia è sempre stato un luogo espositivo quindi vogliamo mantenere questa sua vocazione e ospitare negli spazi che sono molto suggestivi ogni mese un artista differente poi sul nostro sito troverete tutto il programma Angela Caremi è un'artista molto particolare molto delicata e realizza delle opere fatte con la stoffa in particolare unisce il racconto il ricamo e la costruzione manuale quindi troverete questi libri molto leggeri molto poetici che ha realizzato e potete visitare la mostra che è aperta tutte le mattine e il pomeriggio su appuntamento ma se suonate noi siamo sempre lì quindi a proposito di artisti l'avete dichiarato anche nel vostro video di intenti siete disposti a offrire gli spazi e ospitarli e quindi a provvedere insomma a far incontrare gli interessati con l'artista Sì, ma una delle cose, una delle nostre mission principali è proprio quella di sostenere il lavoro degli artisti dando in questo caso anche degli spazi quindi l'ultimo piano si presta soprattutto a realizzare, a ospitare prove teatrali di danze eccetera quindi chiunque può venire per mettere in prova il suo spettacolo la sua performance eccetera e poi magari noi riusciamo a inserire qualche loro performance in alcuni spettacoli o rassegne che realizziamo Per quel che riguarda invece il progetto di riqualificazione urbana con artisti e cittadini che cosa avete pensato? Anche questo è nel vostro programma di intenti Allora abbiamo, sono ancora in corso una in fase più avanzata e una no abbiamo collaborato con il Politecnico di Milano per riqualificare le aree verdi della città c'è stato quindi vari gruppi di studenti del Politecnico di Milano che hanno realizzato sedute piuttosto che lavori di grafica eccetera e una commissione in cui era ovviamente compresa anche il Comune di Como ha scelto uno di questi progetti che adesso è in prototipazione con un'azienda del territorio che si chiama Living Divani si tratta di una seduta che allestirà diverse aree verdi della città e questi realizzati dagli studenti e poi abbiamo invece coinvolto la Fondazione Ratti per la riqualificazione del Parco di Vianzani attraverso un'azione di arte partecipata Fondazione Ratti è direttrice artistica di questo progetto quindi ha scelto un artista per lavorare con i cittadini del quartiere e fare il Parco di Vianzani un luogo più bello e vivibile quindi cerchiamo sempre di unire la partecipazione della città a quello che facciamo mettendo gli artisti in relazione con i cittadini e i cittadini in stretto contatto con gli artisti Un altro punto del vostro programma è quello della città in residenza spazio vestito che cosa significa? È proprio questo progetto del Parco di Vianzani abbiamo spazio vestito perché rivestiamo un po' diamo nuova veste a questi spazi cittadini ancora questo non è in fase di progettazione sono stati fatti molti incontri è ancora in una fase progettuale non è ancora concretizzato Un work in progress abbiamo elencato tutti i vostri punti di forza i vostri intenti quello che poi è veramente la vostra identità per chi fosse interessato ad avvicinarsi al vostro mondo diamo qualche indicazione su come fare Allora, ci possono intanto venire a trovare al Chiostrino che è in piazzolo Terragni 4 poi possono visitare il nostro sito artificiocomo.it tenersi in contatto con la nostra pagina Facebook che è aggiornatissima e contattarci anche via mail artificiocomo.gmail.com da lì poi noi rispondiamo e prendiamo appuntamenti per chi volesse vedere lo spazio anche magari per proporre un'attività perché lo spazio è aperto a associazioni o anche privati che vogliono realizzare qualcosa all'interno degli spazi Benissimo velocemente ricapitoliamo anche i prossimi corsi in partenza sia per bambini che per adulti e anche in questo caso immagino che bisogna come dire associarsi per partecipare Sì esatto bisogna associarsi si fa l'iscrizione poi si partecipa alle attività le ho scritte così non me le dimentico Bravissima perché sono davvero tanti Sì ci sono i corsi di yoga il mercoledì il teatro per adulti il circo per bambini i laboratori di sartoria che si parte da zero per chi non sa proprio infilare la macchina da cucire i corsi più avanzati per chi sa già un po' lavorare vuole cucirsi un capo c'è anche il laboratorio di maglia a chi piace sferruzzare scrittura creativa e a brevissimo partiranno dei workshop di danza contemporanea ospitiamo degli insegnanti a livello nazionale che per quattro domeniche a partire dal 31 gennaio insegneranno la loro arte e questi laboratori di danza contemporanea sono aperti anche a chi è curioso del movimento quindi non soltanto a professionisti ma anche a chi insomma piace muoversi entrare in contatto col proprio corpo benissimo allora abbiamo detto molto evidentemente non abbastanza ma per tutte le altre informazioni artificiocomo.it ve lo ricordo adesso a me il tempo a disposizione è terminato vi lascio a tutte le notizie di etg prima pagina poi a seguire come sempre target l'appuntamento con angoli domani a domani grazie a tutti grazie a tutti